Siamo in Emilia-Romagna, una regione ricchissima dalle mille anime. Abbiamo un patrimonio in Emilia-Romagna che è enorme. Trovi di tutto, la grande musica, la grande cucina, i grandi paesaggi. Ricco di colori, ricco di sapori. Camminando da Rimini verso Piacenza ci troviamo a nostra sinistra, alla collina, alla destra, la pianura. Qui si mangia bene perché abbiamo delle usanze che sono valide. Anche quando è brutto, la valle è bella. Quando c'è la nebbia la valle è bella. Ti rimane sempre nel cuore, ti rimane nel tuo DNA. Essere nella motorvalli significa il tutto di quello che è la nostra regione. In Emilia-Romagna c'è una costellazione di realtà musicali, teatri, conservatori, ma anche piccole associazioni. Bologna è una delle città più musicali del mondo. È da sempre che gli strumenti musicali vengono costruiti a Bologna. Si va a creare dal nulla, dalla terra, si va a creare uno strumento musicale. Il nostro mestiere, come alcuni altri mestieri, identificano il territorio con un prodotto che naturalmente viene dalla natura. Io tutte le mattine quando mi sveglio dico via, faccio colazione alla svelta e poi giù in laboratorio. C'ho da fare. Devo girare le teglie, devo fare l'impasto, devo costruire, devo vivere. Abbiamo saputo preservare ciò che era già in uso tanti anni fa. Un territorio come il nostro poteva essere caratterizzato se proponeva un menù e dei prodotti del posto. Quel Federico Fellini che abbiamo conosciuto senza rimini non credo che potrebbe esistere. L'Adriatico è uno scrigno. Non è eterno. Ma se finisce il mare, prima finiamo noi. Se noi siamo qui perché i nostri nonni e i genitori sono passati in questi luoghi. Tu devi fare tesoro delle esperienze, della storia, ma devi anche avere chiare le idee di dove dovrai andare. Noi siamo l'Emilia-Romagna. E questa è la nostra storia.